Fedez regala una stella a Chiara Ferragni, dedica e significato Fedez regala una stella a Chiara Ferragni con una romantica dedica damore. Fedez ha fatto un romantico regalo di Natale anticipato a Chiara Ferragni. Si tratta di una stella della costellazione Taurus alla quale ha aggiunto una frase, l'amore è un'equazione imperfetta in cui uno più zero dà zero e uno più uno dà tutto al mio raviolo. . Il famoso rapper ha spiegato il significato del suo gesto per la compagna, dicendo che per lui una stella rappresenta un punto fermo ma irraggiungibile. Fedez parla di un sogno che lo fa emozionare, lui stesso ha affermato che dedicare una stella in un'epoca come questa in cui si ha poco tempo per sognare significa regalare un sogno. . La coppia sembra essere sempre più unita, entrambi non vedono l'ora che nasca il figlio Leone. . La coppia attende la nascita di Leone. . Chiara Ferragni e Fedez sono molto amati e seguiti su social, stanno insieme ormai da diverso tempo. . I due a breve diventeranno genitori, hanno già svelato molti dettagli in merito alla gravidanza. . Il piccolo Leone nascerà a Los Angeles. . A confermare la notizia è stata proprio la coppia poche settimane fa, dicendo che da gennaio a maggio saranno a Los Angeles per accogliere l'arrivo del bambino. . . In merito alla decisione presa hanno spiegato che in questo modo non solo potranno avere più privacy, ma il bambino potrà avere anche il doppio passaporto. . Intanto i due continuano a cercare una casa adatta alle esigenze di una famiglia. . . L'appartamento del rapper è troppo piccolo per viverci in 3. . .